In questo periodo c'è un vantaggio per noi che effettivamente i movimenti di persone danno un pochino più nell'occhio. Quindi quello che poteva essere in altri periodi un normale flusso di clienti del bar, in questo periodo non c'era nessun motivo che giustificava la presenza di questi soggetti nei prestiti di esercizio commerciale, quindi era un, diciamo, alquanto sospetto per noi. Il bar infatti, come del resto tutti quelli d'Italia, era chiuso ma l'attività, almeno quella illecita, non si era mai fermata ed il locale, in zona Villaggio Dante, era così diventato un punto di spaccio. Il tutto non è passato inosservato alla squadra mobile della questura di Arezzo che ha così arrestato due persone, un cittadino albanese di 44 anni ed un 48enne, entrambi pregiudicati. Le modalità erano abbastanza semplici, i clienti, gli acquirenti si avvicinavano all'esercizio, a volte bussavano alla vetrina, a volte bastava un cenno con chi rimaneva fuori, entravano all'interno del gazebo, usciva contemporaneamente il gestore, dava loro quanto necessitava e, diciamo, lo scambio si effettuava nel giro di pochi istanti. Il tutto avveniva sotto il controllo della vedetta. Il palo, sì, è stato riscontrato in diverse occasioni, è un soggetto pregiudicato albanese, a volte era proprio lui che si occupava delle cessioni, altre volte aveva semplicemente la funzione di stare all'esterno, nel piazzale antistante al bar e avvertire magari il gestore della presenza delle forze dell'ordine. Così lunedì scorso è schettato il blitz. Abbiamo quindi cinturato il bar, fatto irruzione all'interno e arrestato sia l'albanese che si trovava come sempre all'esterno del bar, sia il gestore che stava all'interno. Dentro il bar sono state recuperate 12 dosi, nascoste in un giubbotto, altre due erano pronte sul tavolino del gazebo, quindi pronte per un'immediata e prossima cessione, e poi il restante della droga recuperata è stata rinvenuta all'interno dell'abitazione del gestore del bar. Qui, infatti, i poliziotti hanno trovato e sequestrato altre 79 dosi di cocaina già confezionate e circa 9 mila euro in contanti, probabile provento dell'attività illecita. Per il 44enne tunisino, tra l'altro irregolare sul territorio nazionale, sono scattate le procedure per il rimpatrio. Il gestore, già condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato invece portato nel carcere fiorentino di Sollicciano. Dovrà rispondere anche dell'apertura illegittima, quindi dell'esercizio commerciale, pur se non ha comunque svolto l'attività propriamente del bar, ha comunque creato un assembramento di persone nei pressi della sua attività.